Ciao, ben ritrovati! Questa volta voglio spiegarvi la ricetta della mia torta dietetica per quel giorno della settimana in cui ci è permesso a sgarrare un pochettino di più ma senza esagerare. Siete pronti? Sì! Questa è la ricetta della torta di mele della zia Nori che però io ho modificato alla mia maniera ed è una base perfetta per tutte le torte qualunque tipologia di frutta che abbiate in casa io però oggi ho preparato delle mele ed è già tutto pronto provide un'altra farbata stendo con le mani su una teglia che ho precedentemente imburrato adesso con le miele che ho precedentemente tagliato farò una croce e le incasterò per bene su tutta la torta e adesso a 180 gradi per 40 minuti la torta è pronta e la mangiamo subito la volete assaggiare? alla prossima